Ben ritrovati a questo nostro appuntamento settimanale la stanza del sindaco ospitiamo con grande piacere il primo cittadino di Belmonte Piceno benvenuto sindaco Ivano Bascioni grazie grazie dell'opportunità grazie di avermi invitato lo sapete la nostra è una trasmissione di attualità andiamo nei grandi centri ma ci occupiamo anche delle realtà più piccole stiamo aprendo una finestra sul consiglio regionale per conoscere anche chi ne fa parte per la prima volta o è stato riconfermato poi siamo sempre a cercare di capire che cosa succede sui territori questa volta Belmonte Piceno ebbè è un comune piccolino quanti abitanti sono sindaco siete e dove siete? Allora siamo in provincia di Fermo in mezzo a due valli la valle del fiume a te vivo e la valle del fiume tenna siamo a circa 20 chilometri dal mare una posizione privilegiata perché da da casa mia per fare un esempio affacciandomi dalla finestra vedo contemporaneamente il mare adriatico e i monti sibillini quindi il mare e la neve fortunato esatto potrei dire vista mare se la dovessi mettere in vendita siamo 600 abitanti anzi curiosamente nell'ultimo censimento eravamo arrivati a 599 poi fortunatamente abbiamo avuto delle nascite delle altre persone che sono venute quindi siamo un po sopra i 600 insomma 10 chilometri quadrati per 600 abitanti e il problema del distanziamento non c'è in questi territori per tornare veramente ai giorni che stiamo vivendo assolutamente no diciamo ce li abbiamo come dire naturali abbiamo la una concentrazione di bassissimo ovviamente essendo la maggior parte del territorio campagna quindi non nel distanziamento sociale come come è stato detto praticamente non lo conosciamo lei viene eletto nel 2014 e riconfermato nel 2019 la lista è unica però lo sappiamo bisogna raggiungere comunque il quorum e il suo impegno nel 2014 da che cosa era mosso e poi nel 2019 allora nel 2014 la voglia di di mettermi alla prova nel fare qualcosa in cui che non avevo mai fatto semplicemente non avevo mai fatto politica non mi ero mai occupato di amministrazione io lavoravo in alto adige quindi ero molto molto lontano da casa e poi con l'aiuto di collaboratori suggerimenti eccetera dice proviamo questa carriera messo molto tra virgolette carriera e vediamo di fare qualcosa di utile per la comunità per il paese per il territorio lo spirito era assolutamente questo non certo quello di come dire di avere una un cappello una posizione di potere perché una posizione di potere essere sindaco di un comune di 600 abitanti insomma direi che è un privilegio perché si conoscono tutti praticamente i concittadini probabilmente quelli che sono andati a votarti però rovescio della medaglia che ti cercano tutti esattamente c'è non avendo il filtro del degli uffici diciamo così come può essere una città grande e alla primo problema piccolo grande che sia la tessi telefono al sindaco ma per per cose serie per carità ma anche per banalità già che ci sono nel ne racconto un paio sicuramente curiose una volta mi chiamo una signora mi dice guarda vieni un attimo a casa devo far vedere una cosa io non ci capisco nulla io giustamente per confidenza per tutto ci vado e mi fa vedere le lastre di un ginocchio cosa che non è la mia professione dico mi dico ma neanche io ci capisco nulla sì ma sicuramente più di me è il sindaco e quindi è ci sta deve sapere tutto beh una volta era il sindaco il farmacista carabiniere se c'era la stazione dei carabiniere ora è rimasto quasi solo il sindaco questa è una veduta di belmonte anzi è l'arrivo a belmonte e lo vediamo 310 su livello del mare il colle più alto è appunto 310 metri che il colle dell'abitato questa è la piazza centrale piazza giacomo lopardi con la chiesa del santissimo salvatore il comune lì di fianco è lì di fianco sindaco appunto viene riconfermato nel 2019 ci ha preso gusto diciamo che l'esperienza è stata interessante valida e come tutti i sindaci come tutti gli amministratori c'è sempre qualcosa da finire qualcosa a metà e quindi con il resto dei consiglieri insomma che mi hanno appoggiato abbiamo deciso di ripresentarci ho deciso di ripresentarmi come sindaco anche stavolta senza avversari la prima volta aveva un avversario che era la lista diciamo precedente l'ex insomma l'ex amministrazione ok stavolta niente da solo e ho una piccolissima soddisfazione se vogliamo chiamarla così appunto essendo 600 abitanti circa ho avuto 325 voti validi tenendo conto che 600 sono gli abitanti ma ovviamente ci sono quelli che non hanno diritto di voto perché minorenni o altro o che non sono andati semplicemente a votare quindi ho più del 50 per cento dei residenti non degli aventi diritto al voto quindi un sono proprio suoi cittadini belmontesi credono belmontesi diciamo ogni persona che incontro per strada ho più del 50 per cento di probabilità che abbia scelto lei votato lei nel primo mandato nel 2016 arriva il terremoto che sconvolge gran parte dei territori che cosa è successo a belmonte ea che punto siete con quelle che sono le opere principali di ricostruzione il danno più grande che abbiamo avuto nel paese è stato l'inagibilità della scuola scuola che prima era infanzia e primaria contemporaneamente nello stesso edificio inagibile già dal 24 agosto quindi dalle prime scuola dalla prima scossa importante che c'è stata fortunatamente subito dopo siamo riusciti a spostare la scuola dell'infanzia su un altro edificio di proprietà comunale e mentre la primaria si è trasferita ma era già diciamo in comproprietà con monsempietro morico si è trasferita a monsempietro morico abbiamo avuto un finanziamento per poterla ricostruire stiamo in fase avanzata di progettazione già identificato il terreno acquistato il terreno e quindi si dovrebbe cominciare a breve con con la progettazione definitiva insomma o addirittura esecutiva e da lì con con l'appalto dei lavori si dovrebbe cominciare a costruire la tempistica prevista approssimativamente dovrebbe essere pronta per settembre 2022 praticamente per l'inizio dell'anno scolastico ma sarebbe un bel regalo oltre che un obiettivo credo della sua del suo mandato sarebbe molto importante e oltretutto nel progetto c'è il fatto che questo edificio ovviamente antisismico con con tutti i criteri con tutti i crismi quello di utilizzarlo anche in caso di emergenza quindi non so che una volta che è indipendente dal punto di vista elettrico indipendente perché comunque con delle provviste d'acqua eccetera in una emergenza ipotetica che speriamo che non non succeda mai però potrebbe essere un luogo sicuro dove ospitare delle persone c'è la cucina dentro ci sarebbe il cocco insomma sarebbe un punto di riferimento anche perché immagino che poi i ragazzini almeno nei primi anni vogliano andare a scuola nel loro paese secondo me è importantissimo perché poi le amicizie che si fanno nei primi anni di età ma poi la come dire un paese senza la scuola senza i bambini senza il movimento della scuola non so mamme che passano il pulmino bambini che vanno a prendere la pizza o escono nel parco giochi per giocare eccetera quando la scuola importantissima per un comune così piccolo è sempre importante ma l'assenza della scuola in un comune piccolo si noterebbe molto di più si sente quindi il primo mandato la vede impegnata anche sul fronte della ricostruzione o comunque dell'emergenza post terremoto nel 2019 viene appunto rieletto si prova a tirare un po sulla testa no anche a programmare immagino e il 2020 hanno disgraziato con la pandemia a belmonte piceno qual è la situazione sindaco allora diciamo fortunatamente finora ci sono stati dei dei casi di positività ma almeno fino a questo momento con sintomi lievi quindi non abbiamo avuto nessun ricoverato in ospedale o peggio ancora nessun decesso certo però c'è una situazione drammatica dal punto di vista sociale perché la diffidenza che si sta creando il rapporto umano che non c'è più in un comune così piccolo si è cresciuti insieme quindi quando ci si incontrava c'era una fiducia istintiva nella persona che avevi di fronte adesso si vede non solo le file davanti alla farmacia negozio di alimentari tutti distanti tutti i diffidenti comprensibilmente diffidenti è un qualcosa che che mi rattrista mi rendo conto che la situazione generale questa e non si può fare diversamente ed è giusto che sia così io spero che in un futuro non troppo lontano adesso non sta a me dirlo questo problema verrà risolto quindi gli aspetti sociali e poi economici perché questa emergenza sanitaria che ci sta piegando da un anno oramai ha dei risvolti anche economici pesanti penso a un comune come il vostro che probabilmente fa leva su quello che hanno su le strutture ricettive su un turismo di un certo tipo sull'aspetto culturale come sta andando purtroppo è stato un anno da dimenticare adesso parlando del del museo quindi l'aspetto culturale avevamo mediamente almeno fino al 2019 circa 3000 visitatori la interrompo questa è una delle sale del museo lo vedete molto bello è un museo nuovo museo archeologico museo archeologico piceni dedicato ai piceni perché sono tantissimi ritrovamenti c'è stato un grande lavoro e lì immagino ci siano stati tanti turisti ma anche tante scolaresche esatto esatto soprattutto le scuole ma abbiamo fatto anche tanti convegni partecipato a fiere diciamo che i piceni l'archeologia per belmonte rappresenta un po un fiore all'occhiello secondo tutti gli studiosi secondo tutti gli esperti la necropoli più importante picena è quella di belmonte i ritrovamenti gli oggetti più importanti sono comunque quelli di belmonte e quindi da amministratore mi sembra logico puntare su questo settore particolare della cultura e del turismo cosa che ci ha dato notevoli riscontri insomma quindi è poi un solo un primo passo non so siamo riusciti a aprire gli scavi archeologici nel 2018 con dei ritrovamenti sensazionali è più è relativamente facile prendere dei finanziamenti per la cultura perché comunque siamo come dire un'eccellenza in questo in questo settore e quindi con dialogando con principalmente con la regione cioè c'è come dire quella comprensione del fatto che la nostra potenzialità va sviluppata e quindi ogni tanto qualche soldo arriva per riuscire a portare avanti questo progetto cultura va a braccetto col turismo e quindi arrivano persone magari si fermano l'estate ha dato qualche l'estate passata qualche segnale? no l'estate nonostante tutto diciamo è stata accettabile dal punto di vista turistico c'era la sensazione che il pericolo virus era un po' passato in effetti nel bene e nel male c'era questa sensazione generale e quindi non dico che si era nella normalità ma qualcosa che gli assomigliava cosa che ovviamente in autunno è cambiata totalmente e adesso non so oggettivamente e nessuno le sa le prospettive per il 2021 intanto appunto restano queste restrizioni che riguardano per esempio adesso ancora di più la provincia di Ancona c'è l'ordinanza del presidente Acquaroli di questi giorni quindi massima attenzione poi c'è lo screening che continua la campagna vaccinale che anche nelle Marche sta andando avanti con un piano che risente delle difficoltà che diciamo la verità ci sono a livello nazionale se non internazionale poi ci sono gli atteggiamenti personali da tenere sindaco perché lo sappiamo dobbiamo stare molto attenti soprattutto per queste nuove varianti e per affrontare nel migliore dei modi questo periodo anche l'aspetto degli ospedali le notizie ci dicono che gli ospedali sono di nuovo in difficoltà sono in difficoltà perché il problema è grave da non sottovalutare perché il problema è mondiale addirittura una situazione forse la spagnola dei primi anni del secolo scorso ha avuto un'incidenza di questo tipo quindi il rispetto delle regole e le precauzioni da tenere sono fondamentali non si può sottovalutare quello che sta succedendo insomma quando si vedono delle immagini insomma di luoghi super affollati senza le necessarie precauzioni come dire c'è sempre il sospetto che poi qualcuno di questi venga contagiato che torna a casa ma ricontagia il resto della famiglia o qualche anziano della famiglia insomma magari potrebbe avere delle difficoltà molto più serie è ovvio che bisogna stare attenti sperando che la medicina, non so il vaccino, non so quant'altro possa venire fuori e tirarci fuori da questo momento storico terribile e però gli amministratori hanno anche quel ruolo e la capacità di andare oltre il momento dell'emergenza sindaco lei da gennaio 2020 quindi da un anno è il nuovo presidente di marca fermana anche qui un periodo un po' difficile per essere a capo di questo che è, ce lo spieghi bene, le faccio togliere la giacchetta da sindaco indossa quella di presidente di marca fermana dove ci sono tanti sindaci esatto, metto un'altra giacchetta o un altro cappello allora facciamo una premessa probabilmente dal, diciamo, il mio lavoro fatto turisticamente e culturalmente per Belmonte quindi legato al museo eccetera ha dato fiducia ai miei colleghi sindaci che ancora ringrazio per avermi eletto gennaio dell'anno scorso presidente di marca fermana che è un'associazione turistica fondamentalmente che si occupa di accoglienza ossia non fa direttamente promozione perché la promozione è in capo alla regione quindi non abbiamo i mezzi per fare degli spot nazionali insomma come può fare la regione però una volta che uno arriva nel nostro territorio gli offriamo dei servizi di informazione adesso non so, è il primo che mi viene in mente abbiamo sviluppato un'app in cui ci sono tutti i 40 comuni del territorio quindi coincide con la provincia sì, coincide con la provincia in più ci sono delle associazioni di categorie legate al turismo non so, i bed and breakfast, i villaggi ma anche, non so, Confindustria, Confartigianato, Confesercenti insomma, Fondazione Carifermo, Qualche Scuola quindi è una cabina di regia diciamo che questo, visto che siamo in uno studio televisivo potrebbe essere l'aggettivo più appropriato certo che questo è un discorso mio personale essere stato eletto a gennaio e a febbraio praticamente il turismo si è bloccato diciamo che è stato un anno molto faticoso si è andato avanti con la progettazione abbiamo presentato dei bandi in estate siamo comunque riusciti a portare avanti tre o quattro progetti insomma anche limitati per forza di cose diciamo che la marca fermana, il turismo non dimentichiamo che il turismo ha circa il 15% del PIL dei numeri importantissimi che poi coinvolgono tutti cioè coinvolgono, non so, dalla guida turistica che sicuramente ma anche poi se porti dei turisti in una qualsiasi località ci sarà il bar, il ristorante, il B&B, eccetera, eccetera gli outlet, i musei e questo è un settore è un'economia di scala molto molto importante però è uno dei settori che sta soffrendo di più lo sappiamo, tutto il discorso dei ristori e anche di una nuova programmazione le chiedo però le potenzialità di un territorio rappresentato da marca fermana c'è tanto ancora da fare, da sviluppare? io ho parlato un po' di tempo fa con un mio amico uno scrittore che io reputo illuminare e gli ho chiesto proprio ma perché il turismo nelle Marche non è sviluppato come magari Martigiano lui? no, romano e allora si può chiedere romano ok e mi ha detto non so come dicevo come in Emilia Romagna Rimini, la Toscana Toscana ma anche l'Umbria ha fatto l'Umbria un bel lavoro e mi ha fatto un ragionamento che ho trovato veramente illuminante mi ha detto ma è semplicissimo nelle Marche fino a non tanti anni fa non c'era bisogno di turismo ossia c'era un manifatturiero un artigianato l'agricoltura esatto un'economia che funzionava bene quindi esclusa la costa quindi con le strutture alberghiere della costa e tutte quelle legate al turismo costiero diciamo l'interno non aveva necessità di turismo però le cose sono cambiate il manufatturiero e l'artigianato in genere sicuramente diminuito adesso si sta riscoprendo o tentando di potenziare il turismo questo ci ha dato in vantaggio siamo un pochino più come dire intonsi cioè abbiamo una potenzialità ancora da sviluppare i nostri borghi e questo non lo dico per presunzione sono oggettivamente uno più bello dell'altro tra l'altro lo stesso turismo della costa lo dicono molti sindaci, i suoi colleghi e poi effettivamente lo fanno anche hanno capito la forza dell'entroterra, della montagna cioè hanno bisogno di voi esatto lo scopo di Marca Fermana era quello proprio di fare sinergia allora come dicevamo Belmonte ha 600 abitanti non può puntare sul turismo da solo ma neanche un centro più grande riusciamo a farlo solo come territorio allora se come territorio noi ci identificano come Marca Fermana allora sì abbiamo questa potenzialità un discorso che ogni tanto faccio che è semplicemente la Provenza o le Cinque Terre cioè le Cinque Terre penso che nessuno si ricorda i comuni che fanno parte delle Cinque Terre però le Cinque Terre nel nostro immaginario è l'immaginario di tutti sia di chi ci è stato oggettivamente bellissimi anche chi non ci è mai stato ma sì è una bella zona così da apprezzare perché? Perché si parla di territorio non si parla del singolo comune quindi noi dovremmo riuscire nell'immaginario collettivo con la comunicazione ma abbiamo questa potenzialità cioè i nostri centri hanno veramente di tutto a partire non so dall'enogastronomia il paesaggio la qualità della vita che un po' raccoglie un pochino la salute questa potenzialità ce l'abbiamo dobbiamo riuscire a comunicarla farla capire e c'è una cosa importante nelle statistiche adesso su cui che ho a disposizione con Marca Fermana le marche hanno un ritorno impressionante ossia le persone che vengono alle marche per la prima volta molto probabilmente ci tornano con una percentuale altissima questo vuol dire che una volta che siamo riusciti a portarli per i servizi per l'enogastronomia per le bellezze che abbiamo le persone tornano e quindi dobbiamo riuscire come dire a fargli fare il primo step a farci conoscere a uscire da quella nostra ritrosia da quel guscio che forse ci caratterizza sicuramente anche storicamente sindaco poi voi o lei che adesso è presidente di Marca Fermana avete un compito difficile ma non impossibile quello cioè di superare i campanili perché noi siamo famosi per quello abbiamo visto anche qualche foto i nostri campanili sono meravigliosi e ci caratterizzano o le mura di molte città bisogna andare oltre è difficile però è la cosa che dobbiamo fare forse c'è anche una nuova generazione di amministratori di sindaci quindi diciamo che adesso c'è un po' più sinergia da quello che mi dicevano non ho riscontri vent'anni fa era molto diverso quasi impossibile quindi la strada è quella si comprende forse la globalizzazione ci può essere ci può essere anche nel nostro piccolo la globalizzazione anche buona la globalizzazione buona lo stare insieme ma sì perché cioè non ci devono essere le gelosie secondo me se non so un comune vicino ristruttura o fa non so un teatro un museo una qualsiasi altra cosa io suppongo se qualcuno va a trovare visitare quel comune magari verranno a mangiare a Belmonte in un ristorante di Belmonte o comunque verranno al nostro museo ma sicuramente porterà interesse nel nostro territorio quindi più bellezze ci sono più interesse c'è nel nostro territorio e più è meglio è inutile racchiudersi dentro le proprie mura o guardare il proprio orto non ha non ha senso e poi come dice il sindaco verissimo se uno le marche le scopre le conosce poi se ne innamora ci ritorna insomma è difficile che rimanga deluso anche perché è una scoperta vera e propria anche per noi marchigiani quest'anno c'è stato un turismo tutto diverso tutto nazionale in molti sono restati un po' in zona però hanno scoperto delle cose che prima non conoscevano anche nella stessa regione assolutamente io per primo cioè nel visitare dei borghi più o meno dispersi perdonatemi il termine ma si vedono delle cose che sono incredibili straordinarie per fare turismo sindaco serve anche qualcosa qualcosa di pratico come delle buone infrastrutture quindi c'è una nuova giunta regionale c'è una nuova squadra che ha molto entusiasmo insomma per la prima volta si trova anche ad amministrare la regione quindi dice che vuole ascoltare molto i territori io me lo auguro e onestamente stiamo andando in una buona direzione questo anche la giunta regionale ha i suoi problemi con la pandemia quindi hanno le loro difficoltà ma io penso e spero che ci potrà essere un dialogo per cui come dire si potrà proseguire in maniera molto concentrata il discorso sul turismo sono contento che la delega al turismo se l'è tenuta il presidente Francesco Acquaroli vuol dire che ci tiene molto e vuole sviluppare e potenziare il discorso del turismo che dovrebbe essere una delle come dire delle risorse del nostro territorio dovrebbe essere una leva della ripartenza lo sappiamo le grandi difficoltà che hanno gli altri settori e poi non possiamo permetterci di spopolare la montagna di lasciare i territori abbandonati perché poi anche a livello naturalistico ne paghiamo tutti le conseguenze e poi è la nostra storia è quella dei nostri borghi delle nostre colline meravigliose tanto apprezzate e poi ci sono questi sindaci che fanno un po' da sentinella grazie per il ruolo io spero questa è solo una speranza che la situazione generale della pandemia possa un pochino far riscoprire l'interno perché magari adesso con lo smart walking o comunque altre situazioni che si stanno sviluppando scoprendo adesso ci si rende conto che non è così difficile complicato abitare a 10 km 20 da un centro più grande e quindi in un periodo medio lungo penso che ci possa essere un ritorno nei centri storici più piccoli almeno questo mi auguro e mi sembra aver capito che anche su questo lavorerà poi ci sono tanti altri progetti all'inizio del secondo mandato insomma qualcosina in più come le piacerebbe lasciare Belmonte alla fine di questa doppia esperienza come la vorrebbe il suo paese come lo vorrebbe allora io ho 5 o 6 progetti iniziati 5 o 6 progetti iniziati importanti spero proprio di riuscire a portarli a termine uno l'abbiamo accennato prima la scuola la nuova scuola ma anche ristrutturare il vecchio edificio scolastico che nelle mie intenzioni sarebbe quello di portarci il comune e spostare il museo quindi metterci il museo nell'attuale museo ci vede una biblioteca e quindi ci sono dei progetti qualche marciapiede da costruire ho letto di una piazza una piazza l'abbiamo quasi terminata e quindi è un lavoro già fatto quasi fatto quasi fatto lo mettiamo con la spunta e però ce ne sono altri da portare a compimento la strada è lunga e poi attenzione perché nei piccoli comuni si ricordano tutto quello che uno ha detto uno ha promesso e quindi c'è anche questo aspetto qui da tenere in considerazione quindi le auguro buon lavoro perché ho capito perché ho capito che come sindaco di Belmonte Piceno e come presidente di Marca Fermana ce n'è da fare ce n'è da fare però se c'è la giusta entusiasmo la giusta volontà le possibilità ci sono devo dire una cosa questo nel comune negli uffici eccetera con i collaboratori c'è una bella identità c'è una bella veduta d'insieme per le cose che dobbiamo fare ci vuole tempo perché purtroppo i meccanismi della burocrazia come spesso si dice rallentano molto le cose però le intenzioni sono buone spero che riusciremo in tempi accettabili in tempi normali a portare a termine tutti i nostri progetti io glielo auguro davvero noi siamo qui con la nostra trasmissione ogni tanto vi richiamiamo e quindi cerchiamo di capire anche a che punto siete e come stanno andando le cose io ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia anche questa puntata e ci vediamo settimana prossima grazie e buon lavoro a Ivano Bascioni il sindaco di Belmonte Piceno grazie grazie di cuore dell'opportunità grazie a tutti 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 grazie a tutti